Le giocatrici della Nazionale, recenti campionesse del mondo, in appoggio a Jenny e Hermoso, vogliono manifestare la loro ferma e profonda condanna di fronte ai comportamenti che hanno minacciato la dignità delle donne. Nessuna donna dovrebbe sentirsi costretta a rispondere alle immagini potenti che tutto il mondo ha visto. Ci riempie di tristezza che un fatto così inaccettabile è riuscito a macchiare il maggior risultato sportivo del calcio femminile spagnolo. Tutte le giocatrici che firmano questo documento non faranno più parte della Nazionale se resteranno gli attuali dirigenti. Firmato. Quando è uscito, ho visto che è finito su tutti i media del mondo.